video amici buonasera a tutti voi oggi è 12 febbraio 2020 amici vi dovete portare avanti i 5 ambi a 10 all'8 serate come avete visto all'inizio l'immagine di copertina come avete visto e la super bomba i due gol come avete visto amici poi iscrivetevi al canale di marco zollo continuate a seguire e iscrivetevi al canale del mio collega dario amici che anche lui fa come ste calcio è lotto e lui è esperto di auto che lo saluto ecco voi amici e amiche iscrivetevi al mio canale youtube benedict darius7 ripeto benedict darius7 grazie a tutti lo saluto il collega e continuate a seguire e continuate a iscrivervi buona fortuna a tutti voi e questa è una bellissima quota e 260 amici e 260 una quota 260 una bomba ciao